Come si tiene vivo l'amore per lungo tempo? Questa domanda ce la facciamo più o meno tutti prima o poi, perché se all'inizio della relazione sembra tutto facile, dopo un po' le difficoltà cominciano ad aumentare. Ma come mai? All'inizio si vive la fase chiamata innamoramento, che è diversa dall'amore vero. Proviamo a chiarire meglio il loro significato. L'innamoramento è la fase iniziale di una relazione amorosa. È quel periodo in cui pensiamo solo all'altro, sentiamo le cosiddette farfalle nello stomaco e ci sentiamo euforici. Il cervello rilascia una grande quantità di dopamina che va ad agire sul circuito della ricompensa e del piacere, che si attiva anche nelle dipendenze. Per questo i due innamorati sembrano sotto l'effetto di droghe. Hanno il forte bisogno di vedersi e quando non possono vanno in crisi, sono nervosi, dormono male, il loro umore si abbassa, eccetera. Per quanto ci renda felici, l'innamoramento è fonte di stress sia fisico che psicologico. Secondo le ricerche questa fase dura in media due anni, può durare più a lungo se ci si vede raramente, ma in ogni caso è destinata a finire. Questa è la fase che viene spesso rappresentata al cinema e nei libri e viene venduta come se fosse il vero amore. In realtà in questa fase siamo ben poco lucidi, non vediamo i difetti dell'altro e anche se li vedessimo non ci sembrerebbero così importanti. Quando questa fase finisce si passa alla disillusione. Vediamo il partner per quello che è veramente, notiamo i difetti e ci chiediamo, ma come ho fatto a non vederli prima? Ci sono tre possibili scenari. Uno, la coppia si rende conto di essere incompatibile e ci si lascia. Due, la coppia decide di continuare a stare insieme, ma resta bloccata in questa fase, continuando a non sopportare i difetti dell'altro. Tre, la coppia si rende conto che i valori personali, i progetti di vita e tutto il resto sono compatibili. Così accettano l'altro per quello che è veramente, senza volerlo cambiare. Superata questa fase si arriva al vero amore. In questa fase le cose non sono facili come nell'innamoramento, che non richiedeva alcuno sforzo da parte della persona per poter andare avanti. Se l'innamoramento si teneva in vita da solo, questo non vale più per l'amore vero. L'amore vero ha bisogno di impegno quotidiano, di attenzioni e di cura. La famosa fiamma può rimanere accesa, ma solo se viene alimentata giorno dopo giorno, mentre se si spegne diventa davvero molto difficile che si riaccenda. Questa fase può sembrare noiosa descritta in questo modo, ma in realtà l'intimità, l'unione e il sentimento che si crea è molto più profondo di quello dell'innamoramento. I partner si amano davvero per ciò che sono, senza volersi cambiare. Questo permette a ciascuno di loro di vivere un senso di sicurezza e di forza in tutti gli ambiti della vita, non solo nella relazione. Ma quindi, come si fa a tenere vivo l'amore in una relazione di lunga durata? Cominciamo col dire che è importantissimo capire in che modo noi amiamo l'altro e in che modo vorremmo essere amati. Ognuno di noi utilizza un linguaggio dell'amore, quindi manifesta e percepisce l'amore in una modalità che potrebbe non coincidere con quella del partner. Per questo è fondamentale che ogni coppia diventi consapevole del linguaggio dell'amore che utilizza. In questo modo i partner possono sentirsi amati ogni singolo giorno. Vediamo insieme quali sono i 5 linguaggi dell'amore. 1. Parole di affermazione. Per chi utilizza questo linguaggio le parole contano tantissimo. Complimenti, incoraggiamento, ringraziare l'altro per ciò che fa per noi o per la coppia. Tutto questo è fondamentale per loro. Molti di noi hanno potenzialità che non emergono perché da soli non ci crediamo abbastanza. Avere un partner che ci incoraggia, ci sostiene e crede in noi può fare la differenza. 2. Tempo di qualità. Per le persone che parlano questo linguaggio è importantissimo avere dei momenti dedicati completamente alla coppia. Non significa che questi debbano essere tantissimi ma che quando ci sono si dedichino tutta la loro attenzione. Questo non significa guardare la tv insieme oppure stare vicini fisicamente ma stare perennemente al telefono. Significa organizzare una cena, una passeggiata e guardarsi negli occhi, parlare, mostrandosi davvero interessati a ciò che l'altro dice. 3. Ricevere doni. Chi parla questo linguaggio si sente amato quando qualcuno gli regala qualcosa. Un dono per loro significa questa persona ha pensato a me. Mentre era lì si è ricordato o ricordata di me. Per loro un dono è un simbolo concreto di amore. Non deve necessariamente essere qualcosa di costoso. In questi casi è più importante il pensiero, la creatività e l'amore che mettiamo in questo gesto. 4. Atti di servizio. Chi parla questo linguaggio esprime il suo amore cercando di semplificare la vita al partner. Azioni come cucinare, preparare la tavola, portare fuori il cane eccetera. Queste azioni richiedono fatica ed energie e per alcune persone sono vere espressioni d'amore. Per loro sollevare il partner dallo stress quotidiano è il modo più genuino di dimostrare il vero amore. 5. Contatto fisico. Da bambini questo tipo di amore è molto importante per lo sviluppo. Successivamente per alcuni adulti rimane il linguaggio dell'amore principale anche nella coppia. Tenersi per mano, abbracciarsi, baciarsi, avere rapporti sessuali sono modi per comunicare l'amore. Quando una persona che usa questo linguaggio ti abbraccia, sta comunicando molto di più, sta dicendo che ti ama, che sei importante e che ti vuole vicino. Quindi questi sono i cinque linguaggi dell'amore. Conoscere il proprio e quello del proprio partner è importantissimo per far sentire l'altro amato quotidianamente e in questo modo alimentare la fiamma. Quando il linguaggio dell'amore non viene individuato è facile sentirsi rifiutati e non amati e magari anche noi non sappiamo spiegare perché. Ragionate su questi linguaggi e cercate di capire quali per voi sono più importanti. Se trovate difficile riconoscere il vostro linguaggio provate a rispondere a queste domande. Quali azioni o carenze del vostro partner vi feriscono profondamente? Il contrario è probabilmente il vostro linguaggio dell'amore. 2. Che cosa avete domandato più spesso al vostro partner? Probabilmente ciò che avete chiesto più spesso è ciò che vi farebbe sentire più amati. 3. In che modo esprimete amore al vostro partner? Il modo in cui esprimete il vostro amore potrebbe coincidere con il modo che vi fa sentire amati. Siete riusciti a individuare il vostro linguaggio dell'amore? Scrivete qui sotto la vostra classifica, dal più importante al meno importante. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una giornata meravigliosa. Ciao!